Un gioco per raccontare il mondo di oggi con una carezza in un pugno e storia d'amore, così come azzurro, stai lontana da me, sognando. Tutto questo è stato il concerto conclusivo di Estate in Città 2012, manifestazione organizzata dal comune di Pordenone, svoltasi al teatro comunale Giuseppe Ver. In un teatro tutto esaurito, il pubblico ha ascoltato calorosamente il concerto Memorie di Adriano, di Peppe Servillo, voce storica degli Avion Travel, reinterpretando diversi brani musicali di Adriano Celentano, presente anche il sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti. Io credo che sia la giusta conclusione di un Estate in Città che ha avuto dei momenti bellissimi, è stata in generale molto apprezzata, ha visto la partecipazione di tanta gente. Noi siamo contenti, molta più gente è rimasta in città quest'anno e il nostro obiettivo come amministrazione era fare in modo che la città fosse il più possibile vivibile, godibile e che comunque dei momenti di relax e di sospensione di quelle che sono le nostre preoccupazioni potesse esserci. Io dedico il finale questa sera a tutti voi e anche un arrivederci al prossimo anno, ma un momento di ricordo va a Renato Nicolini. Renato Nicolini è stato l'incredibile assessore che a Roma, tanti anni fa, si torna alla fine degli anni 70, è stato il primo a lanciare le stati romane che poi ha dato il via a tutti questi tipi di manifestazioni che facciamo, con un grandissimo coraggio però, perché Renato Nicolini ha lanciato queste cose in un momento di terrorismo e per usare la cultura contro la cattiva cultura. Ecco, questo è quello che noi vogliamo fare, mantenere la barra dritta e usare la cultura proprio per andare avanti in momenti così difficili come i nostri, ma uscirne con quell'ottimismo e con quella solidarietà che fa parte proprio della nostra comunità. Grazie. Grazie.